newbie a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale oggi andremo a parlare della rarity collection 2 non sono nel mood ho sentito tante di quelle stronzate ultimamente che boh mi fanno venire voglia di tagliarmi la gola mettiamola così ma ovviamente ragazzi prima iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da fantasia store il miglior negozio ragazzi per l'acquisto della vostra rarity collection 2 e ovviamente se volete un po di sconto e supportare questo canale trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto stessa cosa ragazzi per l'app store il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di prodotti coreani e giapponesi di yuki e one piece poi hanno carte retro bandai di yuki e carte gradate quindi anche per lui codice sconto e referral link sempre qua sotto in più se volete liberarvi carte di yuki magic pokemon e one piece trovate il link del instagram sempre qua sotto contattatemi mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare detto questo ragazzi andiamo a a parlare secondo molte persone del più grande scamma della storia di yuki bene erenz allora oggi andremo a parlare della rarity collection 2 quello che persone stanno considerando un enorme scam un prodotto di merda e un qualcosa che effettivamente non deve essere comprato perché nel pratico lo considerano bo alla stregua probabilmente dello starter deck con zeus dove all'interno non c'era praticamente niente a parte che quello era uno starter deck non era uno strutture deck ma dettagli le persone ancora non capiscono la differenza va bene prima iniziare io andrei un attimo a vedere lo spoiler delle carte perché molte probabili molto probabilmente le persone si sono infilate una matita negli occhi prima di guardare gli spoiler perché nel momento in cui dicono che qua dentro non c'è niente secondo me devi averci per forza qualche problema ma vabbè ovviamente abbiamo sbagliato rarity non è questa ma è quest'altra ma ci sarà tempo anche di fare un paragone ragazzi perché nessuno mi toglierà dalla testa l'idea che questa rarity è migliore della scorsa cosa che ovviamente è da eretico e dovrei essere bruciato sul ruolo come le streghe ma vabbè dettagli allora erenz presenti telecarte o lo faccio io guarda come vuoi ragazzi sta ascoltando il disco di finale lasciamolo stare no no l'ho stappato va bene comunque qua dentro di interessante perché secondo molte persone non lo è abbiamo i due gattini da soccorso molto carini abbiamo entrambe le versioni sia quella normale che l'alternative art unica carta credo che possiamo trovare in entrambe le versioni perché le altre se non ricordo male hanno solo l'alternative e ovviamente io ne sono molto contento perché è una carta da retro format in più sapete il gattino gold era un po da sboccare e la versione normale era solo super come max rarity quindi averla entrambe secret o quarter non dispiace a nessuno allora super la turbo pack sarà sempre super la turbo pack vabbè sì però nel senso risulta un pochino più accessibile alle persone visto che quella era una promo di un pacchetto che effettivamente non potevi acquistare e attualmente non si trova in ottime condizioni poi sì ci sono tante rarità perché ragazzi ci sono sette rarità disponibili sei giuste una un po' altalenante che è la finta ultimate ma vabbè su quella sorvoliamo ragazzi nessuno la compra nel pratico a vorrei fare un attimo una considerazione la platinum che troveremo all'interno di questo set non sarà uguale alle platinum della rarity 1 ma sarà uguale alle vecchie platinum che uscivano nei team se non ricordo male quelli di orso dei fire feast se non sbaglio ma nel caso correggere andando avanti come altre carte interessanti abbiamo ovviamente corvo che ragazzi esiste comune incredibile però non ce lo potete avere secret se esiste comune poi vabbè abbiamo anche rico carta che si gioca in lightsworm è uscito i supporti e sono totalmente inutile carta che si gioca in ogni mazzo edison sì lo so ma erenz entra in questa mentalità i giocatori competitivi credono che questo sia solo un prodotto per loro e quindi ritengono la maggior parte di queste carte una merda mentre konami forse ha pensato wow forse possiamo fare un prodotto che può andare a un target di persone molto più ampio ma di questo discuteremo dopo stessa cosa ragazzi il ratto gigante super agile ma cosa ci fa un giocatore competitivo a cui probabilmente serviva molto di più ferrir kastira è quanto esiste già comune la deck di obelisk si si ma esiste anche super di una stampa infinitamente vecchia quindi e secret dlc 05 25 euro al pezzo sai che non ricordo se ce li ho dovrò controllare poi vabbè abbiamo vabbè predone dei teschi mi sembra si chiami no padrone no padrone poi vabbè droll ragazzi mamma mia tutte e due le versioni droll sì è la seconda la seconda e unica altra carta che ha avuto la stampa in entrambe le versioni incredibile ragazzi droll di nuovo dopo che esisteva raro datama ragazzi droll era salito wow incredibile si vendeva 2 euro al pezzo e poi a che cazzo servono del caos hunter e rescue rabbit tag carte di merda sì no ragazzi abbiamo rescue rabbit abbiamo mamma mia ghost ogre può andare bene che è una carta meta stessa cosa droll eh ma rescue cat no rescue rabbit no eh poi andando avanti abbiamo l'alternativo il blue eyes alternativo mamma mia che carta di merda a cosa serve i giocatori competitivi non ci fanno assolutamente niente con questa roba ragazzi io vorrei ricordare che konami ha annunciato un nuovo structure deck blue eyes e considerando che questa carta costa di base perché sta a 15 euro mi sembra normale effettivamente ristamparla togliere 10 euro era raviola che chi cazzo la vuole era raviola sì no ma togliere uno slot da questo prodotto e metterci una carta che alla fine è mezza interessante perché comunque ci sta io ricordo che nell'alternativo 1 c'erano tante carte inutili eh e a questo giro hanno messo una carta pseudo decente stessa cosa ragazzi c'è un'altra carta blue eyes tra le magie che è questa che io minchia la bingo machine ragazzi sta carta stava in italiano dai 20 euro in su eh se non anche sì sì sia ultra che secret era uno schifo dai non si poteva avere e la devi giocare in tre per nel mazzo blue eyes se vuoi giocare un minimo blue eyes a un local ma è questo il fatto non mi sembrava il caso non mi sembrava il caso che blue eyes costasse 600 mila euro ma ci sta che la butti qua dentro almeno dai le reprint di tutto esiste un'altra carta che è sempre esclusiva promo delle confezioni che esiste sia ultra che secret che è un rituale che non è stato ristampato credo quello stia all'interno dello strutturo o konami ha intenzione di metterlo all'interno del nuovo battle of legend la butto lì è non ci sarà sicuramente perché avendo aperto la sua versione giapponese lì dentro non c'è quindi dubito che ci sarà in questa a noi aggiungono sempre carte effettivamente c'è un blue eyes dentro quindi non lo darei troppo per scontati o comunque ci potrebbe stare e ti vedo preso dal video però mi sa che non hai lasciato il like qua sotto dai ti do un attimo per metterlo poi ripartiamo grazie mille dai continuiamo andando avanti abbiamo le carte palta come c'erano nella vecchia rarity che erano il mago silente e lo spadaccino silente dando avanti abbiamo ovviamente fantasme che ci sta alla fine anima di maghi che la gente può accettarla perché comunque si può cioè è un reparto buono insieme manca l'illusion of chaos che vediamo più avanti poi abbiamo carta d'espia che la gente l'accetta perché d'espia blue eyes jet vabbè carta che aggiunta a caso è come lo spadaccino il mago silente abbiamo poi pure lì sauravis illusione del caos dragoon che ci sta perché era una carta da 20 euro un po di roba d'espia tra cui ring room e boh quest'altro poi abbiamo garura ottima perché era una carta 15 euro chimera va bene trisciula assolutamente no perché che schifo il retroformat che schifo il retroformat anche per tg per bibliotecario anche se comunque ragazzi vi ricordo che potete giocarla come la price card è adesso è così e non volitate ovviamente solo alla versione da jump poi andando avanti di roba accettabile abbiamo drago sincro alla cristallo perché comunque era una carta che era salita abbiamo drago spirito occhi blu che non serviva punitore corre al dragon che boh ci sta come non ci sta perché alla fine aveva già un reprint ultimamente nel cofanetto dello starter deck poi dweller che c'ha una max rarity oltre la sua versione super comune e ultra la ultimate non la considero perché ragazzi non è una cosa di espansione abbiamo anche boh rafflesia ok lui che è carino numero 38 dugares ok magnifica la gente dice ma che schifo ma io ricordo l'hanno mai riprintata in breve è una carta da 15 euro quindi va bene potete lamentarvi quanto vi pare ma era una carta da 15 euro poi le pale questa questa potevi non ristamparla perché è una carta che sta a zero a pollusa l'hanno fatta solo nella versione topa senza l'orso boh ci sta allora vorrei fare un attimo un discorso su questa cosa di molte carte hanno stampato solo la versione che nasceva come versione gold da una parte secondo me è stata una scelta ottimale perché così dai le sette versioni alla pollusa e gli dai delle rarità vere dall'altra non mi svaluti la versione con l'altro l'altro artwork secret perché io della pollusa secret da rira avendo ristampato solo questa l'altra non mi si è svalutata perché effettivamente ok per quanto la carta sia la stessa hanno due artwork differenti cosa che non è successa ovviamente lo scorso set con prosperity talento tattiche triple boh extrava e tutte le altre a hash per dirne una e infatti io c'ho ancora qua le mie ma vabbè dettagli e comunque sono molto contento di appollusa poi abbiamo la carta unchained questa ci sta perché ragazzi era una carta che costava 25 euro io vorrei ricordare alle persone che questa carta si era epata post uscita di dune poi si è epata ancora di più con l'uscita delle carte yubel ovviamente ragazzi la scelta è ottimale perché comunque il mazzo iniziava a costare tanto e le carte vecchie avevano ovviamente bisogno di una reprinta cosa che finalmente è successa ovviamente non è l'unica perché da come potete vedere c'è anche la magia che anche quella attualmente stava sui 9 euro ma ci sono stati periodi all'inizio che era sui 30 euro abbiamo poi mascherena access code che anche questa la versione secret si è azzerata tifone sepoltura book contro l'avversario altre carte interessanti carica della brigata questa è molto carina ragazzi perché comunque è una carta che usciva da tdgs era l'unica carta lightsworm che non ritroviamo in load load verrà resi stampato quindi nel pratico danno la possibilità alle persone di giocare lightsworm max rarity di nuovo sia per il retro format sia perché comunque sono usciti dei nuovi supporti quindi dà la possibilità effettivamente a tutti di poterlo giocare max arti ed è una cosa molto bellina cosa che un giocatore competitivo non può capire perché per lui esiste solamente il meta ma vabbè dettagli qua abbiamo il meta abbiamo ancora rexys anche questa carina però che lo facevano prima era un pochino meglio cosmic cyclone va bene cross out va benissimo perché era una carta da 15 euro e a me me ne è rimasta una sul gruppone visto che il giorno in cui l'hanno annunciata la reprint un tipo mi ha annullato l'acquisto grazie probabilmente aveva snicciato prima il fail coso boom no no non credo non possono uscire notizie però diciamo che nel pratico la madre potrebbe fare cose ovviamente mi sto riferendo a una persona ipotetica non attacco nessuno è vabbè poi andando avanti abbiamo altra carta inutile che fax eso sorella questa non ha senso perché comunque stava già a zero abbiamo solo e luna altra carta palta boh un pianeta inutile per l'ereino ci sta comunque poi abbiamo assassino finale ci sta altra carta di pote carta più al carte purelli terreno ovviamente cashtira e l'altro pianeta poi tra le trappole abbiamo giudizio solenne e senza skill drain avvertimento e colpo solenne partiamo parlando del prezzo ragazzi questa rarity rispetto alla scorsa rarity avrà un prezzo ovviamente superiore la prima all'uscita anche in pre vendita si aggirava più o meno sui 100 euro poi è salita attualmente in italiano si trova a 150 euro lo confermo perché ne ho venduta una io oggi questa parte attualmente da 200 capisco che comunque ci possano essere lamentelli in merito a questa cosa perché comunque molta gente dice eh no ma 200 euro per un prodotto di yuki mi sembra eccessivo visto che la rarity 1 costava 100 io vorrei un attimo rapportarmi con queste persone incapaci di ascoltare le comunicazioni di konami ma questo set ha tipo il doppio delle carte rispetto alla rarity 1 nel momento in cui hai il doppio delle carte è come se tu comprassi due rarity 1 invece di comprarne due e compri una e quindi nel pratico tu non è che vai a pagare un prodotto di più tu vai a comprare due rarity in un prodotto solo e non mi sembra complicato da capire cioè tu invece di comprare due rarity ne compri una e così sei contento non spendi di più rispetto a comprare due rarity lo so che mi sono ripetuto più volte in questo discorso ma è per farvelo capire perché molta gente non credo ci sia arrivata poi andiamo avanti capisco che spendere 200 euro per un prodotto è fuori budget nel senso molte persone ovviamente non se lo possono permettere già la rarity 1 era un prodotto costoso figuriamoci la 2 quindi capisco se molta gente dice è ok però se avessero fatto la rarity come quella vecchia almeno una me la sarei comprata invece con un prodotto che costa 200 euro i soldi non ce li butto sono d'accordissimo con voi ragazzi su questo non posso dirvi di no perché ovviamente tirare fuori 200 euro cash per un box non giocando a pokemon è un po è un po to match però nel senso guardando anche le opening ci si può rendere conto che più o meno almeno guardando l'opening di idlarz le carte riescono tutte l'unica carta che non gli era uscita era la carta magia blue eyes ma vabbè questo è un altro dettaglio comunque capisco se molta gente non se lo potrà permettere per questo motivo in quel caso ragazzi io vi consiglio come sempre di andare di singole perché cioè non c'è santo che tenga non esiste il prodotto da sbustare che vi fa guadagnare si sbusta per divertimento quindi ovviamente se non ve lo potete permettere ragazzi esistono le carte super esiste car market comprate le singole tranquillissimi per tutti gli altri che dicono che costa troppo cioè non non che cate il cazzo perché fa un culo sì perché effettivamente il rapporto tra la vecchiera aditi e la nuova è lo stesso bene e qua esatto ma qui c'era la più bella ok mi sono allevato un peso adesso passiamo al peso più grande quello che effettivamente mi ha rovinato la giornata di ieri e mi ha rovinato la giornata di oggi perché il video l'avevo già pre registrato ieri poi non ho effettivamente attivato l'audio e quindi il video è andato un po a farsi fottere bene io andrei un attimo a contare in questo set quanti sono i pull brutti perché è quello il problema cioè se dicono che questa rarity sia più brutta dell'altra vuol dire che il pull delle carte buone è più piccolo dell'altro fino a prova contraria in teoria ok prima riga quante carte ci sono brutte allora siamo stretti facciamo che ce ne stanno ce n'è una una perché si sono d'accordo perché effettivamente l'altra è accettabile poi seconda riga di brutte quante ce ne sono due che sono lo spadaccino e il mago silente poi le altre alla fin fine sono mezze umane qualcuna di più qualcuno hanno tre perché c'è anche il blue eyes jet perché è forte in blue eyes sì però aveva già una reprint da teen quindi aveva poco senso e siamo a quattro poi terza riga quante ce ne sono brutte 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 secondo me nessuna sauravis si gioca attualmente in voiceless quindi lo ritengo inutile cioè è una carta accettabile quarta riga proprio brutta brutta il sincro blue eyes ce lo vogliamo buttare ma proprio perché cioè magnifica un suo senso dai coral dragon giusto perché buono o neanche no coral dragon è buono siamo a cinque pull brutti brutti poi per star larghi poi quinta riga quinta riga mi sembra tutto accettabile cioè queste sono staple per il retro format e comunque per mazzi generici cioè da qui in giù c'è tutto accettabile tutto accettabile e nella riga di ex season core invece abbiamo due inutili sole e luna che non assolutamente senso e il pianeta che è quello un pochino più scarso sotto tutto il resto è buono perché abbiamo la roba pure la roba visas abbiamo la terreno tier quindi abbiamo effettivamente otto pull brutti che nel pratico non sono neanche così brutti cioè ok io penso che il pull più brutto sia sole sole luna gli spadaccini se vogliamo proprio prendere i pull terribili e o al terreno quindi sono quattro quattro pull terribili il resto è un vabbè se becco le altre quarter posso chiedere un occhio ci posso pure stare ma quelle quattro sono quelle proprio brutte bene andiamo a vedere la vecchia rarity sai che guardandola così dico proprio che merda non so te allora prima riga quante ce ne sono brutte abbiamo l'iro che già questo stava poco ed è inutile e poi la coda favola luna che è proprio inutile attualmente non serve a niente ci vogliamo mettere anche lui no dai siamo strettissimi allora mettiamo l'iro ok che proprio brutto poi seconda riga e questo che ci facciamo questo blackwing totalmente inutile ma simone forte mettiamolo in lista poi andiamo avanti ma questo blue eyes totalmente inutile e bisogna metterlo in lista non penso neanche sui giochi il fotonico subito in lista e merda win subito in lista a i eldrich tutte e due le versioni no è carta di merda minchia ma c'è anche l'iris padadima che schifo queste facciamoli passare ma l'iris padadima o sei beh perfetto dico benten che schifo no no benten ci sta per rituale e la poltiglia la poltiglia 7 7 120 euro di carta da no 120 no ma 70 buoni questo 8 che cazzo è sta merda jack speeder 8 questi come li consideriamo vabbè erano buoni quando sono usciti quindi andava bene poi il konami te l'ha ristampati proprio per le valli di torno è un po' una mossa di marketing interessante basta che vai nella stessa riga vicino numero 100 no numero 100 c'ha un suo senso ma questa no ah la tipina ok questo 9 questo vabbè passiamolo questo 9 9 9 eh ma questo 10 questo 10 no ma può essere può essere c'è qualche combo che non conosco rimaniamo a 9 una super di merda no no rimaniamo a 9 dai su questo va bene questo va bene questo questo scavi vabbè c'è posto sta 10 ma questa no questa questa 10 questa evo questo qui cosa fa evoca tramite fusione un mostro fusione incantatore dal tuo extra deck va andando in materiale fusione indicati su di esso dal terreno cimitero ma potrebbe essere buona in un mondo ipotetico non prendiamola rimaniamo a 9 9 9 9 questo va bene 9 9 e ma questo 10 questa fa schifo 10 e poi andiamo avanti è questa questa forte questa 11 11 11 poi vabbè questa 12 12 questa è carina 12 anche questa è interessantissima proprio quello che volevo ah no questo questa accettabile dai rimaniamo sui 12 pool bene l'altra raletti quanti ne aveva 6 6 rispetto a 12 io qua noto una differenza di pool buoni sulla prima rispetto che alla seconda capisco ragazzi che voi giocate solo meta e quindi vedete il 90 per cento di queste robe merda però io farei un discorso un pochino generale invece di stringere i pugni e sbatterli sul tavolo e piangere perché konami ha deciso di ristampare anche roba retroformate non vorrei dire perché nel senso non esistete solo voi e il gioco esiste anche perché le persone giocano a got a edison a tengu a hat e a tanti altri formati non vorrei dire ma vabbè dettagli e passiamo adesso a quello che non c'è perché molte delle lamentelle derivano dal eh sì ma io volevo ferrir io volevo druiswurm cioè konami non me la ragazzi ragazzi invece di piangere io vi ricordo che queste carte sono uscite all'interno dei tin ve le ricordate è un prodotto uscito sei mesi fa e konami aveva ristampato tutte queste belle cartine ferrir stava sui 12 euro forse 15 vabbè quella è rimasta abbastanza costante druiswurm stava a 4 euro poi hanno mandato magnamut limitato magnamut e ovviamente druiswurm è salito a 15 però nel senso konami ve le aveva ristampati ultimamente quindi non capisco queste lamentele quando la reprint è di sei mesi fa ma ok sorvoliamo su questo io vorrei farvi notare una cosa attualmente all'interno dei negozi di qualsiasi store i tin di quest'anno sono ancora disponibili anche in grande quantità probabilmente li possiedono anche i fornitori secondo voi konami decide di bruciare totalmente un prodotto che hanno ancora i fornitori per ristamparvi di nuovo la carta cioè pensate veramente che voglia ammazzarsi un prodotto che è uscito sei mesi fa che discorso del cazzo è cioè adesso voi fate finta di avere un'azienda avete fatto uscire un prodotto sei mesi fa che è ancora in circolazione in grandi quantità ristampate le carte al suo interno e vi ammazzate il vecchio prodotto io boh è un ragionamento che non ha assolutamente senso cioè ragazzi se volete quella roba esistono i tin ancora ve la sbustate non è un prodotto di sei anni fa che è irreperibile le carte non si trovano tipo quando ascia stava a 30 euro perché gli structure decks alla magna non venivano cioè erano andati praticamente sold out cioè stiamo parlando effettivamente di prodotti disponibili se io vado alla mia fumetteria il team ce l'ha senza contare che attualmente è anche in sconto credo da fantasia store e quindi nel senso li pagate anche meno di quando sono usciti quindi boh cioè parliamoci chiaro io fossi stato in konami non ci avrei messo neanche garura che senso ha metterci garura cioè svaluti già un prodotto che non è stato venduto abbastanza quindi non non ha senso premetto che secondo me i team di quest'anno sono una mina ma vabbè dettagli però ah e non c'entra niente che sono sponsor konami perché mi potete succhiare tutti il pisello io dico quello che mi pare cioè sono abbastanza obiettivo non mi potete dire che questo prodotto è una merda ma vabbè dettagli cioè io non ci avrei messo effettivamente neanche garura ma perché la sua reprint è stata sei mesi fa è ok va bene stesso discorso anche se secondo me un pochino differente con super poli perché è una carta che effettivamente boh ogni volta che viene ristampata risale a stecca quindi ci stava una tipo un massacro totale sul suo valore mettendola all'interno della rarity anche se comunque è una carta che è stata ristampata tipo dieci mesi fa quindi è un po così cioè ci poteva essere come non ci poteva essere stessa cosa ragazzi anche per zeus che era all'interno dello structure deck dello starter deck quindi c'è poteva come non poteva esserci qua ultime carte che mancano all'interno ovviamente di questo prodotto cioè le carte che la gente voleva erano effettivamente spinta tattiche triple e sp poi vabbè se ci mettevi reparto di abastar e reparto orus tutti erano contenti ok bravi bravi ok questo è proprio boom è l'idea più geniale che vi poteva venire ragazzi ragazzi la konami ha annunciato i team quest'anno ok ci sarà ago secondo voi se avessero messo sp qua dentro carta che ovviamente è uscita neanche sei mesi fa ma dettagli dopo i team come se vendono scusate cioè non è che la konami per forza vedeve mette tutto all'interno di un prodotto esistono vari prodotti di ristampe durante l'anno e vengono messi un po da una parte un po dall'altra in modo tale che tutti i prodotti siano appetibili se spinta fosse stata messa qua anche se comunque avuto una ristampa da poco oltre ma vabbè se avessero messo spinta qua se avessero messo sp qua voi adesso avreste il coraggio di affermare che avreste comprato anche i team o vi sareste lamentati perché all'interno dei team non c'è quello che volete perché secondo me sarebbe finita totalmente così nel senso avrei sentito dei piangina che dicevano eh ma nei team non c'è niente non ci hanno riprenduto di nuovo ash anche se era all'interno della rarity in 14 structure bravi ragazzi bravi io sono sempre più emozionato da questi discorsi perché veramente mi scaldano il cuore ogni volta che li sento boh e mi fanno andare prima in chemioterapia sì sì no 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 cioè ragazzi parliamoci chiaro per me questa rarity è migliore della scorsa ok e non c'è santo che tenga tanto l'avete anche capito poi ovvio ci potevano essere delle carte interessanti che non sono state inserite ovviamente tipo boh fatemi pensare trident dragon sì bene questa poteva essere un'ottima carta trident dragon ondata calda ondata di calore heat wave sì anche primo movimento sarebbero stati interessanti qua perché comunque tenpai ha molto senso attualmente soprattutto perché è un mazzo meta e adesso ci spostiamo verso i nazionali e trade and dragon sta tipo 90 euro così l'hanno voluta l'hanno voluta mettere nei team e ok però per quel giorno diciamo che l'appeal verso quel mazzo è un po calato cioè chi effettivamente voleva giocarlo la carta ce l'ha e non se ne fa niente di quella mettiamo cioè mettiamola così e non è detto che il mazzo sia ancora forte ma ok poi o konami ha detto che all'interno del nuovo ts ci saranno carte di meccaniche vecchie giocabili attualmente quindi effettivamente potrebbe esserci a questo punto primo movimento molto probabilmente e ondata di calore cioè questo punto me le metti lì poi non lo so da konami mi aspetto qualsiasi cosa potrebbe esserci una ristampa di rico perché effettivamente rico aiuta le meccaniche vecchie di light swarm ma è qui doppia ristampa come asci in due strutture differenti incredibile e poi c'è anche lo strutture dac reprint e l'odat reprint vabbè vabbè ve l'ho detto ragazzi da konami ci si può aspettare qualsiasi cosa probabilmente ristampano il mago nero non credo e va bene ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento ovviamente primo se acquistate da reality la fantasy store col codice sconto e referral link e in più cosa ne pensate nel senso pensate sia un buon prodotto pensate sia un prodotto di merda ovviamente scrivetemelo nei commenti perché rispondo a tutti eh voglio avere un vostro parere e io vi dirò il mio assolutamente anzi mio lo sapete però voglio sapere il vostro detto questo ragazzi grazie mille per aver seguito il video e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti